Ben trovati al meteo. Settimana molto dinamica sul nostro territorio per l'arrivo in rapida successione di diversi impulsi instabili. Martedì 9 maggio tempo buono, poi peggiorerà. Vediamo nel dettaglio la situazione. Sul Veneto sarà in prevalenza soleggiato con qualche locale a nuvolamento. Verso tardo pomeriggio e sera cielo via via più coperto con prime piogge sui monti in estensione poi anche al resto della regione nella notte. Temperature in lieve calo minime tra 13 e 16 gradi, massime tra i 18 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con cielo poco nuvoloso, più grigio in serata e nella notte precipitazioni gradualmente più diffuse. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime sui 21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove il contesto sarà alquanto variabile con maggiori tratti soleggiati al mattino e con rovesci invece nel pomeriggio. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 20-21 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.